Che Dio ci aiuti è una delle serie tv sicuramente più amate dal pubblico italiano. Non a caso questa sera su Rai 1 partiranno le repliche della quinta stagione, ma di recente abbiamo scoperto che gli attori molto presto torneranno sul set per registrare le puntate della sesta stagione. A rivelarlo sono state Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizzi. La prima interpreta Suor Angela, che è la protagonista principale. La seconda invece la simpaticissima Sor Costanza, che ad ogni puntata riesce sempre a strapparci grosse risate. In occasione della chiusura di Vivi e Lascia Vivere, Elena Sofia Ricci è stata intervistata da Fanpage ed ha rivelato che le represe della sesta stagione di Che Dio ci aiuti dovrebbero riprendere a breve. L'attrice però ha svelato che non ci sono ancora delle date precise, ma solo approssimative. Il lavoro degli attori sul set del Vivace Convento durerà la bellezza di otto mesi e le puntate in tutto ne saranno ben dieci. La Ricci ha rivelato che le registrazioni dovrebbero terminare tra febbraio e marzo, quindi è chiaro che la sesta stagione della serie andrà in onda nel 2021. L'attrice ha anche ipotizzato che le prime puntate potrebbero venire trasmesse su Rai 1, mentre loro registrano le ultime e, se tutto andrà come previsto, potremmo assistere al finale di stagione nel mese di maggio. Valeria Fabrizi, in un'intervista per Di Più TV, ha svelato che le riprese della sesta stagione di Che Dio ci aiuti dovrebbero incominciare a luglio e per Elena Sofia Ricci ha espresso solo parole meravigliose, definendola una cara amica. Sulla nuova stagione di questa amata serie TV non ci sono ancora tante anticipazioni. Sappiamo solo che potrebbe tornare la spomeggiante azzurra interpretata da Francesca Chileni e con Lenico e Monica interpretati invece da Gianmarco Saurino e Piana del Bufalo. Pare invece, ma non ne abbiamo certezze, che non torneranno Gabriele e Valentina, di cui Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori ne vestano i panni. Comunque sia, quello che è sicuro al 100% è che nel 2021 Che Dio ci aiuti tornerà con la sesta stagione e che quindi assisteremo alle nuove avventure di Suor Angela e della sua giornata. Cosa ne pensate? Vi piace questa serie TV? Se vi va, fatecelo sapere! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!